la prossima risalita qui siamo ragazzi eccoci qua leggo ancora l'altro impianto ragazzi un'altra risalita poi vi faccio vedere un po' di panorama quindi che qua forse è un'altra musica dello Rio del Svizzero e poi ci sta un po' di panorama che si sente un po' di area E' una zona sempre ventosa, eccola qui, Winach Flyer, su 2006, dopo il Meier, 2006. Questa giulia è da tanti anni che c'è. Ok, adesso raga, godetevi un po' di panorama ancora. Ci vediamo dopo. Questa giulia è un po' di panorama. 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 So un Jodler, der beleucht, der bringt Simbun und macht Freude, wie ein heller Sonnenschein leuchtet er ins Herz hinein. Überall im alten Land ist ein Jodler wohl bekannt, immer wieder sing ich sie, diese Jodlermelodie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bald kommt die Urlaubszeit, da möchte man verreisen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Grazie.